Stai iniziando Scuola di Cucina, dedicata alla cucina vegana e vegetariana, proprio come accade ad un corso di cucina. Interagisci con noi, visita il sito www.lacucinamodomio.com, lascia la tua ricetta o ascolta le puntate di Scuola di Cucina, così da stupire amici e parenti. Scuola di Cucina è curato da Piero Cantore, dell'Associazione Professionisti Cuochi Calabresi. Scopriamo insieme l'argomento di questa puntata. Ho già l'acquolina in bocca! Bentornati a tutti i miei radioascoltatori a una nuova puntata dedicata a Scuola di Cucina, in questo caso vegana. La ricetta di oggi è un primo piatto davvero interessante, degli spaghettone all'uvetta e lime con mollica e melanzana fritta. Già mi viene l'acquolina in bocca. Vediamo come prepararlo. È molto facile da preparare. Per la preparazione ci sono circa 30 minuti, per la cottura del piatto circa 15 minuti. Ingredienti per due persone. 160 grammi di spaghettoni. Noi consigliamo quelli biologici di pasta forte, che sono davvero buoni. 40 grammi di uvetta sultanina, succo di scorza di due piccoli limoni, sale integrale, olio extravergine di oliva, una piccola melanzana, 4 fette di pane con mollica, una prugna di prezzemolo fresco. Portate a bollore l'acqua per la pasta in un pentola capiente. Nel frattempo fate soffriggere un spicchio di aglio in una padella antiaderente con qualche abbondante cucchiaio d'olio. Quando il nostro aglio avrà assunto un bel colore dorato, eliminate e versatelo nella stessa padella la mollica di pane, tritata grossolanamente. Ci possiamo aiutare con un tritatutto. Fatela soffriggere per qualche minuto mescolando con un cucchiaio di legno fino ad avere una mollica ben dorata. Quando è ben cotta toglietela dalla padella dal fuoco, mettetela da parte la padella con la mollica. Mettete l'uva sultanina ad ammorbidire nel succo di limone, oppure di lime, come preferite. Lavate bene la melanzana, tagliatela a dadini piccolissimi, dopo averla eliminata e le cose pulite per bene, quindi cacciate la buccia e tutto quanto. Quindi stufatele in una padella antiaderente con qualche cucchiaio di olio di oliva e un pizzico di sale. Cuocete gli spaghettoni al dente con un po' di sale nella nostra pentola che avevamo già messo prima a bollire. E lasciatela cuocere. Dopodiché, versate nella padella, dopo che gli spaghettoni sono arrivati a cottura, mi raccomando, al dente, versate nella padella con le melanzane un cucchiaio di acqua di cottura e accendete il fuoco al minimo. Aggiungete la mollica, la scorsa di limone e l'uvetta ben strizzata. Spargete con il prezzemolo lavato e tritato, se volete potete anche irrorare con un po' di olio extravergine di oliva e servite subito a tavola. E vi dico che è un primo vegano davvero eccezionale. Anche per chi non è vegano lo può provare. A me non mi resta che darvi appuntamento alla prossima puntata di Scuola di Cucina Vegana per conoscere insieme qualcosa della gastronomia vegana. Mi raccomando, Scuola di Cucina Vegana, proprio come se fossimo, è un corso di cucina vegana. Vedete anche il nostro sito che è lacucinamodomio.com oppure la nostra pagina Facebook che è Eno Gastronomia Modomio. Se volete potete interagire con noi e chiederci qualche ricetta, noi avremo molto piacere a rispondervi. A me non mi resta che darvi appuntamento alla settimana prossima. Scuola di Cucina, dedicata alla cucina vegana e vegetariana, proprio come accade ad un corso di cucina. Interagisci con noi. Visita il sito www.lacucinamodomio.com Lascia la tua ricetta o ascolta le puntate di Scuola di Cucina, così da stupire amici e parenti. Scuola di Cucina è curato da Piero Cantore dell'Associazione Professionisti Cuochi Calabresi.